Anche quest'anno Unacma è presente ad AgriLevante con tutte le attività relative al Meccagri Jobs, la meccanica agraria per i giovani che in futuro dovranno parlare inglese e dovranno conoscere il computer. Meccagri Jobs è un'attività che stiamo diffondendo da oramai cinque anni in occasione delle maggiori fiere internazionali, Eima, Verona e così via. E fa incontrare i ragazzi delle scuole, i loro professori con i concessionari di macchine agricole e con i costruttori di macchine per far capire che nel nostro settore c'è bisogno di figure che possano intraprendere lavori di non solo tradizionali meccanico-agricolo ma anche e soprattutto di meccatronico, di tecnici venditori, oltre a lavori collegati con il contotersismo per cui operatori delle macchine dei contotersisti e così via. Stiamo concludendo con il Ministero dell'Istruzione, il MIUR, un protocollo d'intesa per il rafforzamento del rapporto scuola-lavoro. Alcuni concessionari riceveranno stegisti dalle scuole per insegnargli la parte pratica di ciò che hanno studiato a scuola. Ricordiamoci che negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali agrari sono stati tolti 12 anni fa gli insegnamenti della meccanica agricola quindi molti ragazzi che pur studiando bene tutto quello che gli insegnano negli istituti poi non vedono materialmente le macchine agricole e come sono fatte soprattutto. Quindi è fondamentale anche questo rapporto con il contatto con la macchina. Grazie. 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 Grazie.